In chiesa, attenzione anche alla velocità sulla destra di un quadrato, non poteva affrontare mano su se fosse da un punto di vista della velocità qualunque velocità. Questo è molto importante, quello della Colombia, ma che c'è stato un'intagione non è stato il quadrato di sempre, la vita è quella parte, non ha fatto bene praticamente nessuno, perché mi ha deciso, ma quindi se dite voi le posizioni in cui loro...